ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario nuovo onivermin animal farm informazioni commerciali titolare chi fa srl concessionario chi fa srl confezioni nuovo onivermin animal farm bustina 100 g formulazione 1 kg uguale vitt b1 200 mg vitt b2 300 mg vitt b6 200 mg vitt b1 0 3 mg composizione carbonato di calcio da rocce calciche macinate titolo in ca 39 per cento ceneri insolubili in hcl 3 per cento farinetta di frumento amido di mais contiene inoltre complesso vegetale costituito dalle seguenti erbe disidratate polverizzate felce maschio rizoma assenzio romano aglio bulbo rosa canina indicazioni valido impiego quale vermifugo naturale da aggiungere al normale alimento dei polli e volatili in genere posologia miscelare ogni 10 giorni da 20 a 40 g barra chilogrammi di alimento completo fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato